Le neuroscienze sociali sono una branca di ricerca nuova perché mette insieme la psicologia e le neuroscienze. Ci permette, nell'ambito del bullismo, ci permette di capire quali sono i meccanismi neurofisiologici, cioè cosa accade dentro di noi, nel nostro cervello, quando siamo vittime di bullismo, ma anche quando siamo di bulli. Quindi sono conoscenze molto importanti che la ricerca ci offre adesso per mettere in atto degli strumenti utili all'intervento.